buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio ok allora siamo qua di nuovo per le nuove previsioni per martedì 12 luglio fino a sabato prossimo ok sempre per tre colpi come dico ok allora andiamo avanti allora prima di tutto prima di tutto fatto dei punti qua che non va anche se non si vedono nessun problema ok allora qua si vede un pochino ok allora scritti va bene non importa per eccole qua lo scritte sì ok allora andiamo avanti 62 il 54 si continua ancora ok 62 il 54 si continua fino a sabato prossimo ok su bari napoli e nazionali ok chi non e poi il 33 il 48 che è uscito su bari ieri ok 33 e 48 abbiamo fatto l'ambito questa volta lo giochiamo solo a napoli che vuole solo a napoli anche a nazionale di nove anche se abbiamo fatto l'ambo secco giovedì si può ripetere ancora sul nazionale ok il 30 il 30 33 e il 48 ok e poi il 62 il 54 chi vuole giocarlo perché non non mi fatti domande di quelle vecchie di quelle vecchie l'uno l'11 il 10 e poi il 63 il 66 il 33 non mi fatti domande si che si devi continuare chi vuole continuare continuare continua se non lasciate stare andiamo con questi 9 qua ok andiamo avanti con 62 il 54 e poi ultimo colpo che dico io per martedì ultimo colpo il 33 e il 48 ok 33 e il 33 48 a napoli e chi vuole aggiunge anche nazionale anche se è uscito su nazionale lo giocati su nazionale va bene speriamo che stato che stato chiaro ok adesso nuove previsioni che che ho preparato per martedì nuovissimi questi chi vuole continuare lo continua se no lasciamo a stare e non mi fatti domande non mi fatti commenti per favore ogni volta siete liberi dipende io non dipendi di voi come volete ok io consiglio ancora allora io consiglio consiglio di nuovo a giocare questi 62 e 54 bari napoli nazionali lo ripeto e poi il 33 il 48 solo napoli chi vuole aggiungere anche nazionali ok siamo sono stato chiari sono stato chiaro speriamo di sì grazie a di la fiducia grazie a quelli che hanno fatto la me l'ambetto ieri io non l'ho giocato veramente la verità non l'ho giocato però tante l'hanno giocato io non gioco solo lambo secco di solito ok grazie della fiducia ti grazie anche gli scontrini che avete mandato io l'ho già pubblicato l'ho fatta vedere alle persone adesso per il nuovo previsioni continuo continuato a guardare il video fino alla fine ok e a proposito dico una cosa per il il mio compleanno tra poco tra poco faccio preparo un terno quaterna da giocare ambo terno quaterna da giocare un regalo da me ok basta che mi iscriviti nel mio canale e voglio tante che si iscrivano condividete questi di miei video mi fate un piacere se me l'ho fatto crescere questo canale youtube ok va bene ok andiamo avanti allora tra poco comunque lo vedete anche su facebook quando al mio compleanno mamma e manca pochissimo in questa settimana ok allora le previsioni da giocare dell'otto sono questi e poi chi vuole a unire tutti insieme chi vuole mi raccomando lo dico così non spendete tanti soldini chi vuole unire unire tutti insieme il 62 il 54 più questi qui che ci sono qua unire le tutti insieme su unica fa un ambo terno quaterna chi vuole lo fa oppure lo fate i divisi io avviso di nuovo avviso a tutti chi vuole ok allora i numeri sono questi da giocare eccoli qua il 12 il 57 ragazzi il 12 il 57 sono le previsioni che sono stati calcolati eccoli qua sono stati calcolati qua io non faccio calcolo con la carta e penna ok i calcoli miei questi sono nuovi da andare avanti fino a sabato e dopo vediamo si escono già martedì io faccio aggiornamento per le prossime e cosa vuol dire una cosa che sono stato comunicato state attenti state molto attenti perché sono stato comunicato da da una mia amica che ha preso le mie previsioni ok le vincite stanno girando le mie scottrine che ho fatto giovedì l'hanno presi oppure anche il giovedì anche venerdì quelle di milioni dei l'hanno presi le vincite e poi l'hanno messo su un gruppo con loro link chi vuole aggiungere scritto chi vuole aggiungere questi numeri sempre vincente cliccate sul link state attenti non sono io ok non sono io se non mi vedete la mia foto se vedete la mia foto con il link ok ma state attenti perché ci sono troffatori che ti fregano i soldi ok ricordate che io non chiedo soldi ricordate sempre ricordate sempre io non chiedo soldi va bene perché ci sono troffatori e poi ci sono tanti che entrano con i profili falsi a me non mi piacciono quando vanno sgammate vanno bloccate mi dispiace vanno bloccate perché entrano con il profilo falso mi dispiace tanto auguro a tutti buona giornata e la prossima adesso preparo il 10 all'otto serale ok e domani lunedì forse mito milioni dei no domani no per martedì ci sono nuove previsioni di milioni dei si gioca ancora stasera il lunedì e martedì metto nuove previsioni di milioni dei quelli che per appassionati di milioni dei ok ciao da karim un abbraccio ciao ciao ciao